Cari concittadine e cari concittadini, andate a morire, porca, di quella droga bastarda. Scu scu. Avvicinandosi questo tradizionandosi appuntamento anale di fine anno, avvicinandosi questo cazzo molto grande e talvolta drammatico al vostro culo, ho avvertito la fica. So. So per esprimere a ciascuno di voi un pensiero augurale. Odio il Natale. Metti a rischio le nostre tette. Fef. Esnenze. Sono giorni questi in cui convivono a manza e speroscia. Mamma mia, pandemia, portami mia. Vorremmo tornare a essere immersi nella merda. Sì che è aperta per i nostri bambini e i nostri giovani. Ah. Anziani, inani, marziani, creuciani, rettigiani, bastiani, più isolati, per necessità e precauzione. Poi c'è un po' di pesciano. Fa. E non. Familiari, amici, colleghi. Io mi masturberò appena possibile. Il servizio e le iniziative dell'Unione Europea sono due vettori decisivi per la nostra rinascita. Alla ripresa della vita economica e sociale del nostro Paese. La ripertenza sarà il centro di quest'ultimo tratto del mio mandato. Sarà un anno di lavoro intenso. Abbiamo le risorse per farcelo. Auguri di buon anno a tutti voi. Io voglio. Alla ripresa della vita è un anno di lavoro. Alla ripresa della vita è un anno di lavoro. C'è un anno di lavoro? Grazie a tutti.